Fischi e tamburi contro la sordità delle istituzioni. Di fronte a Montecitorio i lavoratori dell'Istituto Statale dei Sordi manifestano per chiedere il riconoscimento che manca loro dal 1997, quando la legge Bassanini separò la scuola dall'Istituto, lasciandogli solo le funzioni culturali. Fa parte dei cosiddetti istituti atipici che dovrebbero servire il pubblico inquadrati da un regolamento specifico, solo che per l'Istituto Riviano Mentana il regolamento non è mai arrivato e quindi neanche i finanziamenti. Luca Bianchi, coordinatore del settore culturale. Abbiamo una grande crisi di liquidità, sono tre mesi che non prendiamo lo stipendio e quindi chiediamo un finanziamento o ponte in attesa del regolamento attuativo. A rischio ci sono 22 lavoratori coordinati continuativi, di cui 8 loro stessi sordi e i servizi che forniscono a migliaia di utenti sul territorio nazionale, dagli sportelli per bambini e adulti sordi ai corsi di lingua dei segni per i docenti delle scuole pubbliche. Per l'Istituto, che dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione, si era parlato di un emendamento nella manovra correttiva che non si è materializzato e per ora altre soluzioni non se ne vedono. Silvia Simoncini di Nidil CGL, il sindacato dei lavoratori atipici. L'utenza è molto grande anche perché l'Istituto per Sordi di Roma è l'unico istituto pubblico che è rimasto in Italia. Prima ce n'erano anche uno a Milano e a Palermo. Sicuramente c'è stata una disattenzione, una disattenzione lunga vent'anni, che è proprio l'assenza di questo regolamento governativo che dovrebbe finalmente istituire e dare un ruolo a questo istituto e che consentirebbe dall'altro lato anche la possibilità di utilizzare l'ultimo decreto Madia, quindi quello che prevede anche forme di stabilizzazione all'interno della pubblica amministrazione, perché al momento loro neanche questa strada possono percorrere, non essendo sostanzialmente un istituto normato e riconosciuto dalla nostra pubblica amministrazione. Fra legge Bassanini, decreto Madia e intrichi burocratici, vale la pena ricordare che i soldi in Italia sono oltre 850.000, di cui oltre 20.000 sono nati sordi profondi. Al Palazzo chiederei di avere un po' di attenzione, un po' di rispetto per questa istituzione, che è l'unica istituzione dello Stato che si occupa di sordità e quindi è un bene comune.